La scelta di Nilou Faradati Ued, la scelta di Nilou Faradati, l'indizio Nilou Faradati pronta a scegliere? Chi sarà il corteggiatore prescelto? L'indizio. La giovanissima tronista appare essere ancora molto lontana dal fatidico momento che la vedrà abbandonare lo studio di Maria De Filippi assieme al suo nuovo compagno . Sempre più accesi e sorprendenti sono i diverbi che mettono in discussione la ragazza e il corteggiatore Lorenzo Riccardi il quale appare essere molto confuso sulla tronista che intende conquistare . A creare non poco scompiglio sul web è, però, un indizio che sembrerebbe annunciare la particolare preferenza di Nilou Faradati, scopriamone di più leggendo tutti i dettagli successivi. Nilou Faradati sul trono di uomini e donne, l'indizio sulla possibile scelta. . Nilou Faradati ha conquistato il trono di uomini e donne subito dopo la sua esperienza negativa vissuta assieme all'ex tronista Mattia Marciano, per il ragazzo, infatti, si è rivelata essere la non scelta. . In seguito al precedente percorso, Ladati ha intrapreso il proprio trono conoscendo i suoi corteggiatori con i quali oggi sta portando avanti una conoscenza approfondita. . Sebbene il percorso di Nilou Faradati appaia essere molto lineare, la ragazza sembra non riuscire ad aprirsi totalmente con i ragazzi e questo crea non pochi dubbi all'interno dello studio e agli stessi telespettatori che da casa seguono gli sviluppi del suo percorso sulla sedia rossa. . 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